Dovrei ringraziare molto Alessandro Benassi che ha accettato all'ultimo minuto di preparare una lezione su un tema del resto su cui è preparatissimo perché ha scritto molto, ha lavorato e lavora molto e fra l'altro fa parte questo suo interesse per Ariosso e le arti figurative di un programma che sta svolgendo in collaborazione con il comune di Castelnuovo di Garfagnana dove come ricorderete Ariosso è stato governatore e dove grazie a un finanziamento europeo stanno restaurando la rocca appunto e stanno svolgendo anche in collaborazione appunto con noi in particolare con Alessandro un programma di iniziative con le scuole, con la gente del posto e così via. Quindi grazie davvero ad Alessandro e gli do subito la parola. Grazie mille Lina, grazie a voi tutti, mi scuso appunto per il piccolo inconveniente ma abbiamo deciso che procrastinare e rimandare la lezione magari sarebbe stato difficile toglierla, eliminarla probabilmente sarebbe stato un problema per l'accredito del corso e quindi ci siamo detti di sostituire così nell'immediato la lezione con un'altra. Non me ne vogliate se magari non sarà assolutamente perfetta da ogni punto di vista ma appunto sono bene o male argomenti che conosco bene quindi spero di poter comunque dare un contributo interessante. Un'altra piccola comunicazione dato che appunto l'epidemia sembra non accennare a diminuire ma anzi sta avendo nuova recrudescenza, la lezione di giovedì prossimo, l'ultima lezione con Andrea Torre avrà luogo soltanto online. Andrea è malato e ha detto è in condizioni buone per poter fare la lezione però non può non può venire e farla in presenza quindi l'ultima lezione sarà esclusivamente da remoto sul online e quindi io inizierei subito e bene o male i nostri incontri precedenti mi danno molto agio nel senso alcune dei concetti fondamentali di cui intendo parlare sono stati, sono via via già emersi negli incontri precedenti soprattutto nell'ultima lezione di Emilio Russo veramente molto bella sulla Gerusalemme liberata che cosa è spento e perché bene o male la il tentativo di illustrare la Gerusalemme liberata risponde a un modello costitutivo del genere che si è venuto a creare proprio a partire dall'Orlando Furioso l'Orlando Furioso è un testo che inizia ad avere un rapporto strettissimo con la rappresentazione artistica figurativa già da subito è un testo che immediatamente viene accompagnato ispira, entra in relazione diretta con la resa figurativa e come pochi altri testi ha conosciuto una grandissima tradizione in questo senso e una fortissima traduzione con il codice visivo e proprio la costruzione di questo modello ovvero avere un testo epico che è accompagnato da un apparato paratestuale figurativo è quello che poi condizionerà anche Tasso nel pensiero come abbiamo visto nel pensare, nel concepire la sua Gerusalemme liberata come testo illustrato questo perché si costruisce un modello che è quello del Furioso che poi condiziona profondamente la tradizione successiva ma c'è anche da dire che la costruzione di un apparato figurativo intorno nel Furioso serve anche a legittimare nel corso del Cinquecento il Furioso come testo canonico ovvero in una situazione in cui il Furioso sembra grossomodo eccedere, allontanarsi dalle regole da una definizione di genere estremamente precisa le scelte editoriali di accompagnare il testo da un apparato illustrativo serviranno anche, come vedremo, a inserire il testo in una tradizione canonizzata ovvero il Furioso ha un apparato di note, di commenti, di parateste, di argomenti, di esplicazioni varie ma anche un paratesto che lo accompagna di illustrazioni che serve a canonizzarlo come classico come aveva anticipato Lina, queste considerazioni che vi proporrò oggi vengono da un lavoro molto lungo che abbiamo fatto al CTL sotto la sua direzione e che ha portato a un confronto diretto con le edizioni illustrate del Furioso ma anche con tutto quello che esiste tra il Furioso e il Codice Visivo che ha prodotto diversi esiti, un archivio digitale purtroppo al momento in stand by per varie ragioni burocratiche ma anche numerosi altri documenti come un catalogo di una mostra che avevamo fatto qui a Pisa e numerose altre pubblicazioni come Galassia Riosto appunto sul modello editoriale dell'Orlando Furioso dal libro illustrato al web in cui emerge chiaramente proprio il valore cruciale del Furioso come testo modello di tutta una tradizione altri scritti più scientifici e poi un lavoro che non sono riuscito a portare l'Orlando Furioso nello specchio delle immagini un bellissimo lavoro pubblicato, un'edizione di pregio pubblicata dalla Treccani in cui c'è un grandissimo apparato di illustrazioni che veramente mostrano è un tomone di dimensioni considerevoli che veramente dimostrano come il Furioso sia stato un punto di partenza che poi è esploso è andato a popolare veramente ogni segmento dell'immaginario figurativo e letterario e proprio per darvi un piccolo accenno di quanto l'immaginario del Furioso sia riuscito a popolare, sia riuscito a allontanarsi, a estendersi dal suo punto di partenza vi propongo una illustrazione che è da un testo l'incisione è di un importantissimo incisore francese Israel Silvestre per un piccolo libro che si intitola Le Plaisirs de l'Ilochante questo libro non è altro che il resoconto di alcune feste che si erano tenute a Versailles per l'inaugurazione dei lavori alla regia di Versailles quindi siamo con Luigi XIV in Francia l'Ilochante, l'Isola Incantata, è quella della Maga Alcina siamo nel 1664, inaugurazione di Versailles un comitato composto da Molière, Lully, Israel Silvestre, Bon Serrat quindi il top di quello che ci potrebbe essere in tutto l'apparato culturale, artistico e performativo della Francia di antico regime viene mobilitato per rendere uniche queste cerimonie per l'inaugurazione della regia di Versailles l'ispirazione per queste feste è il Furioso l'Isola Incantata è l'Isola di Alcina e Luigi XIV, il re di Francia assume in queste cerimonie il ruolo di Ruggero ovvero lui stesso in persona va a impersonare il protagonista centrale anche da un punto di vista encomiastico del Furioso questo ci riporta anche Lina vi diceva che sto collaborando con Castelnuovo e Luca Comics per una serie di eventi legati al periodo garfagnino di Ariosto come governatore estense di Garfagnana è un po' lo stesso fenomeno che probabilmente possiamo vedere oggigiorno nel fenomeno dei cosplayer ovvero assumere l'identità di un personaggio fittizio e metterlo in scena in una performance ludica in un sistema di antico regime in cui anche questi eventi ludici sono costruiti in un sistema di codici estremamente raffinato come le giostre, le mascherate questo assume un valore cruciale ovvero il testo letterario diventa l'ispirazione come anche oggigiorno per assumere un'identità altra e tutto l'apparato festivo viene condizionato dall'evento dal fatto letterario che ne è all'origine Alcina è sicuramente uno dei personaggi più intriganti all'interno della trama del Furioso e c'è da dire che è proprio intorno a questo personaggio che fin da subito iniziano ad esserci dei riferimenti estremamente precisi estremamente definiti sul rapporto tra il Furioso, Ariosto e le arti Ludovico Dolce, uno dei più importanti umanisti poligrafi del Cinquecento grande fautore del Furioso in un testo fondamentale come Il dialogo della pittura infatti cosa dice? Siamo all'interno di un dibattito estremamente acceso estremamente articolato composizioni differenti articolate che ha tra i suoi momenti iniziali vede coinvolto lo stesso Leonardo da Vinci quella che passa sotto il nome della questione del primato delle arti ovvero quale sia più importante abbia il maggior prestigio se la poesia o la letteratura la poesia o la letteratura o le arti figurative si tratta di una di una questione che però sottintende anche un'altra grandissima topica che si svolge nello stesso periodo ovvero quella della sorellanza delle arti sembrano due categorie contraddittorie ma in realtà testimoniano il profondo legame che sussiste tra pittura e arte figurativa e Ludovico Dolce allora cosa ci dice onde abbiamo l'esempio di Zeus che avendo a dipingere Elena nel Tempio dei Crotognati elesse di vedere i nude cinque fanciulle la scelta di Zeus di definire un canone un modello tratto dalle parti migliori delle crotognate delle belle donne crotognati e togliendo quelle parti di bello dall'una che mancavano all'altra ridusse la sua Elena tanta perfezione il modello di perfezione si costruisce a partire dalle parti perfette di vari modelli che ancora ne resta viva la fama il che può anche servire per ammunizione alla temerità di coloro che fanno tutte le loro cose di pratica ma se vogliono i pittori senza fatica a trovare un perfetto esempio di bella donna questo è il punto cruciale leggano quelle stanze dell'Ariosto ovvero i pittori se vogliono avere un modello di pittura devono leggere le stanze di Ariosto nelle quali egli descrive mirabilmente le bellezze della fatalcina e vedranno parimenti quanti buoni poeti siano ancora essi pittori i pittori sono poeti i poeti sono pittori le stanze che io le ho conservate sempre come gioie bellissime nel tesoro della memoria sono queste ora lo vedremo però qui dolce cosa ci dice alla fine in questa parentesi ci dice un altro elemento cruciale le stanze che io ho nella memoria ovvero le stanze di Ariosto sono memorabili queste stanze queste ottave memorabili sono di esempio possono essere possono fornire l'esempio il modello non solo per gli altri poeti ma anche per i pittori e le stanze dolce cita nel testo soltanto la prima quartina che io ho riportato io ho voluto darvi un contesto più ampio anche perché è interessante vedere come si comporta Ariosto di persona è la descrizione di Alcina era tanto ben formata quanto meffingersan pittori industri con bionda chioma lunga e annodata oro non è che più risplende illustri spargeasi per la guancia delicata misto color di rose di ligustri di terzo avorio era la fronte lieta che lo spazio finia con giusta meta sotto due negri e sottilissi marchi sono due negri occhi anzi due occhi soli pietose a riguardare a muover parchi intorno cui parca mora scherzi e voli e chindi tutta la fare tra scarichi e che visibilmente i cori involi quindi il naso per mezzo al viso scende che non trova l'invidia ove le mende cosa significa l'ultimo verso che non c'è nessun difetto in questo viso cosa sta facendo qui altre ottave sta proponendo quello che è il canone lungo ovvero il modello di descrizione della donna perfetta ideale bellissima con una descrizione che comincia dalla testa e prosegue per tutto il corpo fino agli arti e c'è un rispetto preciso della definizione del canone di questo canone ovvero appunto ci può essere il canone breve limitato soltanto al viso il canone lungo in cui si descrive tutta la persona in questo caso c'è appunto le ottave sono tante Ariosto prosegue a descrivere tutta la persona di Alcina e cos'è interessante abbiamo visto dolce dire se i pittori non sanno come immaginare una bella donna leggano le ottave di Ariosto ma Ariosto a sua volta cosa dice quantum e finger san pittori industri c'è un cortocircuito immediato evidente forte lampante tra la rappresentazione visiva e la descrizione di questa rappresentazione l'una non esiste senza l'altra e poi in tutta la descrizione gli dettagli l'insistenza con cui Ariosto definisce le qualità eminentemente visive c'è un'insistenza sullo sguardo c'è oggigiorno una corrente di studi che tende a mettere in rilievo proprio gli aspetti della visual culture com'è che vedevano com'è che noi vediamo quali sono i dettagli con cui noi possiamo arrivare a comprendere l'importanza dello sguardo e come questo sguardo che condiziona anche il testo letterario si riattiva e nell'arte e nella poesia c'è quindi questo circolo vizioso virtuoso un rimando continuo la poesia è pittura la pittura è poesia Ariosto è profondamente risente profondamente di questa di questo rapporto estremamente intenso estremamente forte tanto che gli studi sul rapporto tra il furioso e le arti visive hanno cercato sia di mettere in luce i rapporti diretti del poeta con gli artisti a lui contemporanei vedremo a breve anche un passo celebre del furioso in cui c'è l'elenco c'è il canone dei pittori illustri ma si è messo in relazione il nome di Ariosto con lo stesso Tiziano Vasari nella vita di Tiziano per esempio insiste moltissimo sullo stretto rapporto di amicizia che c'era tra i due un'analoghe analisi sono state fatte anche nel rapporto Ariosto Dossi più che questi aspetti però io oggi vorrei provare a mostrarvi come questo rapporto questa visualità questo interesse specifico di Ariosto per questa dimensione visiva la capacità di mettere sotto gli occhi come ci ha mostrato anche Emilio Russo sia profonda e radicata e intervenga questo è il punto essenziale intervenga anche nella dinamica narrativa del Furioso e nella traduzione illustrativa che vuole dare conto attraverso le immagini del testo Furioso è interessante vedere che la posizione di Dolce che vi ho fatto vedere prima però nasca da subito già prima dell'ultima edizione del Furioso già con il secondo Furioso siamo nel 1535 Dolce insiste sulla qualità visiva di Ariosto qui vi monti selve fiume fonti laghi mari diverse città ed è interessante vedere come qui Dolce recuperi esattamente le ottave in cui Ariosto descrive la luna come si presenta ad Astolfo qui vi città di mari valli eccetera eccetera riprende quasi esattamente tutti quegli oggetti di visione che ci sono nel nel passaggio lunare e insiste sul fatto che in Ariosto questi elementi vengono descritti vengono analizzati in modo così preciso e dettagliato castelli e vari costumi d'uomini sono mirabilmente descritti egli Ariosto è ingegnoso nelle invenzioni nelle disposizioni ordinate pure terzo nel verso se non ci fosse questo riferimento al verso se pensassimo se ci limitassimo a leggere ingegnoso nelle invenzioni nelle disposizioni ordinato un passaggio di questo genere riferito a dolce potrebbe essere riferito assolutamente alla descrizione di un testo figurativo c'è l'ordine l'invenzione sono categorie fondamentali anche nella definizione dell'opera d'arte pure pure terzo nel verso dolce elegante nella lingua grave nelle sentenze mirabilissimo finalmente a dipignerti una cosa dinanzi gli occhi intanto che il più delle volte non mi par di leggere ma di vedere manifestamente quello di che egli tratta nelle comparazioni non cede a Virgilio quindi c'è appunto come dicevo prima anche il tentativo con queste descrizioni di riportare il modello ariostesco a un modello classico autoritativo ovvero Virgilio non è messo lì a caso non è semplicemente un riferimento di un mero stilema letterario serve a riportare una questione problematica all'interno di una definizione di generi letterari dipignerti una cosa dinanzi agli occhi abbiamo visto quanto sia importante questa virtù mettere sotto gli occhi esaltare la qualità dell'energia o delle nargeia una delle qualità essenziali del testo letterario deve essere la capacità di mettere di fronte agli occhi tanto che non par di leggere ma di vedere manifestamente e questo passaggio non leggere ma vedere quasi che fosse un salto sinestetico tra diverse facoltà diventa ancora più interessante assume ancora più forza nel 1540 in un capitolo di Aretino Aretino è un grandissimo estimatore dell'Ariosto nel 1542 quando Giolito gli manderà la sua edizione illustrata Aretino scriverà questo è un Ariosto d'oro e figurato per esaltare la bellezza di questa edizione illustrata nel 1540 nel 1540 in questo capitolo insiste quasi sulla capacità sinestetica del testo ariostesco dicendo e ti dipinge una cosa si bene che ti d'averla avanti gli occhi con dirti questo va quell'altro viene con le man vedi e con gli occhi tu tocchi il paragone ut pittura pittura poesia che poi si articola anche in un'altra topica ovvero la poesia è una pittura taciturna è una pittura eloquente e la pittura è una poesia taciturna diventa qui ancora più intenso andando a coinvolgere quasi non la pittura ma la scultura lo senti diventa con le man vedi e con gli occhi tu tocchi ciò che gli scrive e con uno stil sieletto che fa crepar di invidia gli sciocchi se quest'uomo divino è benedetto d'angelica ragione di medoro mi par vederli insieme stretti in letto e qui c'è il gusto tipico ariottiniano anche per una certa indulgenza per le situazioni erotiche insieme stretti in letto in realtà Ariosto non ce li ha mai descritti ce li ha allusi ci ha fatto in modo che noi capissimo che è con medoro che angelica perde la sua verginità ma ci ha descritto come angelica curava medoro come si incidevano quei nomi sulle scorse degli alberi che poi visti da Orlando lo faranno impazzire ma non ce li ha mai descritti materialmente a letto se combatte il Francesco con il Moro il Franco con il Moro le genti d'est di Carlo e da Gramante quasi calor per i spasmi i Moro e se io leggo talor del Negromante del Mago Atlante che fe il palazzo con tanto mistero dove gli prese e tenia genti tante mi par veder più di un cavaliero andar di qua e di là e da un balcone dir la sua donna ascoltami Ruggero ovvero Aretino mette in scena qui una situazione delle più divertenti del palazzo di Atlante in cui appunto divertenti e parossistiche in cui il palazzo di Atlante rappresenta in sé racchiude riassume condensa il senso forse di tutto il poema e il senso anche del poeta che sta dietro il poema ovvero rappresentare quel desiderio che mai non si raggiunge ecco qui c'è una scena nella descrizione del palazzo di Atlante in cui Ruggero vede a un certo momento Angelica è entrato attratto da Angelica la vede ma è un fantasma è un oggetto del suo desiderio non è reale ma ancora di più è interessante vedere come Aretino insista anche su un altro dettaglio con dirti questo va quell'altro viene andar di qua e di là e da un balcone ovvero in questo modo di rappresentazione del Furioso Aretino insiste anche su un dettaglio che è la strategia narrativa di Ariosto per riannodare le fila delle vicende dei suoi personaggi ho lasciato un personaggio ora lo vado a recuperare di questo parleremo nel prossimo canto fatemi ritornare indietro ad un altro dettaglio è appunto il regista che tiene le fila dei suoi personaggi è il giocatore che gioca con i suoi personaggi ma gioca anche con i lettori e le lettrici che rimangono invischiati in questo in questo suo in questo suo gioco e tanto per ribadire anche la l'importanza della definizione di genere anche un altro importantissimo autore che entra nel dibattito cinquecentesco sullo statuto del Furioso Giovanni Battista Giraldi Cinzio in una lettera a pigna dà in sostanza il nucleo l'estratto di quello che poi sarà il suo più importante discorso intorno al comporre i romanzi e Giraldi Cinzio rappresenta descrive due punti fondamentali il primo appunto quello della battaglia della guerra della rappresentazione della battaglia il secondo degli affetti che come abbiamo visto di nuovo mi riallaccio sia alla lezione di Eugenio Refini sia a quella di Emilio Russo assumono così valore assumono tanta importanza nel rapporto con la resa figurativa nelle comparazioni non pur a guaglia ma di gran lunga avanza quanti mai scrissero in ogni lingua le battaglie e i fatti d'arme sono con tanta efficacia posti sotto gli occhi di chi legge che par che sodano i suoni delle trombe si sentano nitrire dei cavalli si veggia nelle ordinanze il tremolar delle bandiere si sentano i tamburi si veggano i capitani condurre le genti in bell'ordine metterle in battaglia e disporle tutti ai luoghi di loro poscia vi si scorgono così chiari conflitti che vi si vede il menar delle mani uscire il sangue delle ferite vi sodano le grida dei soldati vi si veggono le morti vi si conoscono le vittorie i trionfi dei vincitori i pianti dei perdenti e finalmente tutto quello che si conviene alle imprese eroiche in lui si vede meraviglioso nel muoverli affetti o piacevoli o lagrimosi egli riesce tale che piange ride si rallegra si duole spera teme come ricerca la materia che egli come ricerca come richiede come implica secondo le definizioni di genere letterario la materia che egli ha tra le mani c'è quindi un'insistenza precisa sul valore epico dell'Orlando Furioso ma anche sulla sua componente romanzesca affettiva empatica di emozioni e di sentimenti quello che però insiste e qui vedremo tra poco nel dettaglio in un'immagine come questo sia efficace di sicuro Giraldi Cinzio esalta un po' insiste va oltre misura questa straordinaria capacità di tutti questi singoli dettagli forse eccede la misura stessa del Furioso però insistere su questi elementi significa che vuole fare in modo che il Furioso sia concepito come testo degno di essere di entrare all'interno di un canone e dopo questa carrellata secondo me assume in cui ho cercato di vedere come la primissima ricezione del Furioso esalti immediatamente la componente visiva e visuale la capacità dell'immaginario riostesco di porsi di fronte agli occhi assume questa carrellata assume un valore ancora più interessante se confrontata con il giudizio galileiano che abbiamo visto ecco che quella capacità di mostrare queste scene epiche nel giudizio di Galileo che è un ammiratore un partigiano di Ariosto assume una definizione estremamente precisa ma all'incontro quando entro nel Furioso veggua aprirsi una guardaroba una tribuna una galleria regia ornata di cento statue antiche dei più celebri scultori con infinite storie intere e le migliori di pittori illustri con un numero grande di vasi di cristalli d'agate di rapislazzari e d'altre gioie e finalmente ripiena di cose rare preziose meravigliose e di tutta eccellenza il giudizio è contro il tasso che invece ha rappresentato se in una comparazione molto di gusto secentesco lo riporta al gabinetto di una mente curiosa piccolo stipato di cose invece Ariosto è in trionfo di storie intere quindi storie che si dispiegano è un genere preciso quella della grande rappresentazione e vedremo come nel corso del cinquecento si arrivi a una grande rappresentazione dei canti ariosteschi piena di dettagli piena di particolari e le parole stesse di Galileo non possono che riportare immediatamente a un preciso contesto visivo di rappresentazione vasi cristalle d'agate ed altre gioie quello che c'è in ariosto si vede trionfa è una galleria regia e anche questo si lega eminentemente al gusto rappresentativo delle scene di battaglia come abbiamo visto in gira al di cinzio la galleria regia oltre che scene d'amore chiaramente però rappresenta anche scene di battaglia in ariosto c'è tutto questo e quindi vi dicevo si può analizzare il rapporto tra ariosto e i pittori a lui contemporanei si può come ho cercato di darvi alcune linee guida il leggere vedere nel furioso l'argomento il pretesto il punto di contatto il modello dei rapporti tra poesia e pittura ma strettamente legato a questo c'è anche il furioso come soggetto di opere figurative e non si può pensare di parlare della tradizione figurativa se non a partire dalla primissima ricezione figurativa che è quella delle edizioni illustrate che assumono in cui c'è una rappresentazione figurativa un'immagine che serve è strettamente legata al testo si situa nell'oggetto libro in un rapporto specifico insieme al testo lo vuole preparare lo vuole commentare lo vuole anticipare qual è il rapporto che via via l'apparato il paratesto iconografico stabilisce con il testo che segue è una questione aperta e via via le soluzioni cinquecentesche poi secentesche forniranno diverse risposte alle volte si vorrà commentare alle volte si vorrà rappresentare integralmente alle volte si vorrà fornire una chiave di lettura specifica che serve come abbiamo visto anche nei commenti per dare al furioso una precisa collocazione all'interno dei generi letterari e è per questo che vorrei partire con una illustrazione splendida tra le prime di grandissimo valore che è quella dell'edizione giolita del 1542 che riporta delle vignette illustrate all'inizio di ogni canto ogni vignetta isola alcuni argomenti del canto li seleziona e quindi è la nostra soglia di ingresso nel testo è quello che ci si presenta all'inizio prima ancora di entrare nel testo c'è la vignetta c'è l'argomento e poi comincia il canto quindi il testo inizia ad assumere una struttura complessa in cui l'immagine funziona veramente come segno distintivo e giolito nel 1542 cosa vuole rappresentare io ho messo la prima illustrazione ma la quantità la scelta operata dall'illustratore dell'edizione giolito è significativa noi abbiamo qui il poema si apre si presenta con un piccolo dettaglio sulla destra di Angelica che fugge nella selva a cavallo ma il centro della scena è occupato da una scena di battaglia da un duello dallo scontro tra Rinaldo e Ferraù che appunto Ferraù si vede in basso sulla sinistra il il fiume nel quale sta cercando l'elmo che gli è caduto l'elmo di Argalia e poi comparirà lo spettro di Argalia si incontrano Angelica fugge si scontrano e poi c'è il passaggio notevole e proverbiale Gran Bontà dei Cavaliere Antiqui quando decidono di mettersi a seguire Angelica e rinviare il duello l'illustratore qui però fa una scelta precisa e sceglierà quasi costantemente di mettere in primo piano le scene di battaglia in questa edizione c'è quindi la volontà di trasmettere un messaggio una codificazione precisa ovvero come abbiamo visto con Giraldi Cinzio mettere stressare il punto enfatizzare il punto che il furioso è un poema epico secondo la tradizione antica questo già avviene attraverso una scelta ci fornisce se noi vediamo statisticamente non abbiamo il un paratesto iconografico pensato da Riosto abbiamo le scelte degli editori e questo ci deve far pensare perché il libro è un oggetto complesso che consta come oggetto materiale che si rapporta con i lettori e le lettrici in un modo specifico se un editore sceglie di o l'illustratore qui ha demandato questo compito sceglie determinate cose evidentemente c'è un significato escludo qui il capitolo complessissimo delle immagini di riuso che pure popoleranno tutta la tradizione cinquecentesca del furioso ovvero esistono dei legni fatti per un determinato testo vengono reimpiegati in modo che possono essere più o meno casuali secondo una precisa scelta scelgo le immagini di un testo qualunque che possa essere l'eneide che possa essere qualunque altra cosa cerco di adattarli al contenuto del canto che segue oppure scelgo di procedere a una operazione semplicemente esornativa è un campo di ricerca estremamente complesso nel quale non è il caso di entrare ora pensiamo che appunto l'illustrazione che viene generata dal testo serve come spia indizio ingresso all'interno di questo stesso testo e per mostrarvi in modo ancora più sofisticato come si arriva a una rappresentazione complessa vorrei analizzare se ce la faccio un caso o un paio di casi di una delle edizioni cui io personalmente sono più legato perché è quella che ho studiato maggiormente che è e anche perché a mio giudizio è una delle più belle ovvero l'edizione Valgrisi del 1556 è un'edizione che presenta delle illustrazioni a tutta pagina ovvero l'anonimo illustratore cui l'editore ha dato il compito di illustrare i singoli canti occupa tutta una pagina prima che il canto cominci per illustrare in questo caso non una scelta ma quasi la totalità degli eventi che vengono narrati all'interno del singolo canto questo consente all'illustrazione all'immagine di avere uno svolgimento narrativo una storia intera che si dispiega all'interno della pagina ma consente anche di arrivare a un paradosso che è quello che poi mi interessa particolarmente ovvero a rappresentare delle cose che sono difficili da riconoscere se io rappresento in tutta la sequenza prospettica vi do un piccolo saggio poi ci ritorniamo in tutta la sequenza prospettica questo è il riassunto del ventiseisimo canto del furioso io posso riconoscere fino quasi anche assistito da alcune didascalie posso riconoscere fino al terzo piano ma quello che c'è sullo sfondo come può funzionare da suggerimento da anticipazione devo andare nel dettaglio a vedere devo ravvicinarmi molto all'immagine ma anche devo fare un'altra cosa procedere tra il testo e l'immagine ovvero il testo diventa collaboratore dell'immagine e l'immagine collaboratrice del testo non c'è semplicemente un'introduzione al testo come nel caso dell'edizione giolitto in cui c'è un primo piano un secondo piano e uno sfondo qui i piani prospettici sono molteplici quindi come può funzionare questa immagine questa immagine rappresenta una storia questa storia secondo uno stile narrativo secondo lo stile dell'intreccio di Ariosto com'è che funziona il rapporto tra questa immagine e il testo è interessante secondo me vedere questo a partire da una rappresentazione precisa ovvero dalla rappresentazione di un'opera d'arte all'interno del testo nel Furioso ci sono diverse digressioni che parlano raccontano descrivono manufatti artistici è interessante osservare che queste digressioni di manufatti artistici che entrano quindi tecnicamente sono delle ecfrasi i manufatti artistici che però non esistono ecfrasi in genere insomma anche questa è una questione complessa è la descrizione di un'opera d'arte esistente qua c'è un'opera d'arte fittizia che viene descritta e poi ci sarà l'illustrazione che deve rappresentare l'opera d'arte fittizia descritta sono passaggi tutti in cui non c'è propriamente una sospensione del racconto narrazione versus descrizione cioè la narrazione l'ecfrasi è una descrizione dovrebbe essere una pausa c'è un allontanamento dalla narrazione ma c'è un'espansione della narrazione ovvero nelle pause descrittive in genere osserviamo sempre degli elementi precisi ovvero le opere d'arte hanno una qualità intrinsecamente magica quelle almeno le due che vorrei mostrarvi la fontana di Merlino e la rocca di Tristano dipinta da Merlino quindi abbiamo un basso rilievo e un affresco fatti creati dai maghi da un mago Merlino sono intrinsecamente magici quindi e hanno un'altra qualità ovvero rappresentano eventi che sono profetici e quindi si inseriscono nella contemporaneità sono profetici rispetto agli eventi del racconto ma si situano nella contemporaneità storica di Ariosto sono quindi dei punti di contatto l'opera d'arte magica consente di stabilire un contatto tra la storia tra racconto e la storia reale che sta succedendo e in queste descrizioni si hanno quindi in genere racconti delle guerre d'Italia o comunque delle calamità che ci sono in Italia o in Europa e c'è un altro elemento cruciale legato a questo ovvero l'encomio per gli Est sono questi gli elementi che caratterizzano l'opera d'arte la magia il carattere profettico bellico rispetto alla contemporaneità e l'elemento encomiastico non si può quindi dire che siano delle vere sospensioni del racconto sono delle espansioni del racconto in cui l'io autoriale interviene per raccontare per stabilire un punto di contatto ma è il punto di contatto essenziale che a ben vedere abbiamo nel furioso già dalla seconda ottava quando Ariosto dice io racconterò come i saraceni sono venuti dall'Africa con Gramante per vendicare la morte di Troiano sovrare Carlo imperatore romano e racconterò anche un'altra cosa mai raccontata ovvero la pazzia di Orlando ma lo racconterò ecco la storia il racconto ma racconterò anche un'altra cosa la contemporaneità l'io autoriale lo racconterò se io che subisco una situazione simile a quella di Orlando non perderò il mio senno questo modo di andirivieni tra la storia e l'io autoriale sostanzialmente e con l'io autoriale la storia contemporanea è costante e in questi segmenti ha le sue manifestazioni cruciali era una delle fonti di Merlino delle quattro di Francia da lui fatte d'intorno cinta di bel marmo fino lucido e terzo e bianco più che latte quivi di intaglio con lavoro di vino avea Merlino immagini ritratte di resta che espiravano e se prive non fossero di voce che erano vive la topica essenziale rappresentata della capacità dell'arte di rappresentare al vivo quivi una bestia usciera della foresta parea di crudel vista odiosa e brutta che avea le orecchie d'asino e la testa di lupo e i denti e per gran fame assutta branchia vea di leon l'altro che resta tutta era volpe e parea scorrere tutta Francia Italia Spagna e Inghilterra l'Europa e l'Asia e al fin tutta la terra abbiamo la rappresentazione della dell'invidia che corrompe le tutta l'Europa ma al contempo poi ci sarà la rappresentazione dell'encomiastica di Francesco I di Francia di Carlo V imperatore di Enrico V d'Inghilterra di Papa Leone X nel proseguo della descrizione l'opera d'arte quindi appare come un momento in cui c'è si apre una parentesi si torna alla contemporaneità si parla dei sovrani si parla di quello che sta succedendo in Europa ma cos'è che succede questa l'ecfrasi della Fontana di Merlino è nel canto ventiseiesimo e vedete qui appunto in questa congerie di personaggi e di elementi la Fontana occupa un piano centrale quindi si può individuare abbastanza bene ma cos'è successo? Questa descrizione in realtà avviene nel canto ventiseiesimo ma Marfisa Viviano Malagigi che è il mago e spiegherà il significato della Fontana di Merlino un mago l'ha fatto un mago è capace di spiegarla l'arte magica l'arte ha in sé qualità magiche c'è un interprete privilegiato questo è estremamente importante non tutti capiscono gli altri chiedono a Malagigi mago buono che anche se chiama gli spiriti infernali è comunque combatte comunque dalla parte dei cristiani è lui la fonte autoritativa per spiegare il significato dell'opera d'arte da una lettura diremmo quasi una lettura iconologica del basso rilievo la spiega perché lui è qualificato a farla però questi personaggi arrivano in prossimità della Fontana di Merlino già nel canto venticinquesimo dove però non viene descritta ci arrivano si mettono accanto alla Fontana si riposano la Fontana verrà poi descritta e definita soltanto nel ventiseiesimo ecco che però l'illustratore cosa sceglie di fare la colloca sostanzialmente quasi nello stesso punto e già nel venticinquesimo canto dove non ci sarebbe bisogno inizia a inserire all'interno del basso rilievo tutti quei dettagli che rappresenterà poi coerentemente nel venticinquesimo quei dettagli che coerentemente invece servono nel ventiseiesimo ecco allora che fa più del suo lavoro ma facendo più del suo lavoro ci fornisce uno strumento per far cosa per capire la strategia narrativa di Ariosto che va ad arcate quel lascio una cosa e la riprendo diventa in questo caso il fatto che l'artista che ha già letto il testo sa che quella fontana è la stessa del ventiseiesimo e mi fornisce allora gli strumenti per raccordare solo successivamente non posso farlo prima quello che ho visto anche di due canti precedenti con quello che ho appena visto è quindi una strategia di rappresentazione figurativa che simula secondo le tecniche sue proprie simula si ispira prova a replicare quel ora lascio ora riprendo ora ce ne andiamo ora ritorniamo anticipando fornendo dei dettagli che a prima vista nel venticinquesimo canto il lettore e la lettrice non possono capire lo capiranno soltanto quando avranno visto l'illustrazione del ventiseiesimo e soprattutto avranno letto l'ecfrasi del ventiseiesimo una cosa ancora più è interessante questa la 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 su giolito è sempre il ventiseiesimo canto però qui cosa succede la vedete la fontana la fontana è qua su piccola sullo sfondo quasi impercettibile però cosa abbiamo visto abbiamo visto che per ariosto queste pause servono per far reagire la storia del racconto del furioso con la storia lui contemporanea ecco che con una grandissima intuizione l'illustratore qui rappresenta una fontana molto elegante e precisa ma senza basso rilievo come invece faranno dopo Valvassori e Valgrisi perché il basso rilievo per così dire lo rappresenta all'interno della tavola ecco la bestia e ecco i principi che la combattono la rappresentazione frastica entra a far parte della scena cogliendo quell'intuizione narrativa di ariosto questo aspetto che appunto di come le immagini possono simulare secondo me e questa è una grandissima caratteristica e anche uno degli aspetti per cui io amo particolarmente l'edizione Valgrisi è perché veramente cerca quasi di mimare le modalità narrative ariostesche e lo vedremo ancora meglio con un'altra ecfrasi come ho anticipato un'altra ecfrasi artistica quella della Rocca di Tristano che è un'ecfrasi particolare perché fatta da Merlino entrano in scena quelle guerre orrende d'Italia c'è la rappresentazione di quelle guerre orrende d'Italia di cui Ariosto stesso è stato non testimone diretto ma sul campo di battaglia della battaglia di Ravenna ci è andato il giorno dopo e sono degli eventi che condizionano profondamente l'immaginario culturale morale storico dell'Italia del primo cinquecento sono degli eventi tragici drammatici e ecco che questo affresco che compare nella Rocca di Tristano è l'occasione per Ariosto per riannodare quei legami con la rappresentazione figurativa che gli interessano fornire un modello un modello illustre di pittura e quindi c'è la comparazione tra il canone antico e il canone moderno ma anche un appunto che è il segno della magia della sua ecfrasi timagora parrasio polignoto protogene timante appollo d'oro a pelle più di tutti questi noto ezeusi e gli altri che a quei tempi fuoro di quai la fama malgrado di cloto che spinse i corpi e di poi l'opre loro sempre starà finché si legga e scriva mercede gli scrittori al mondo viva di nuovo la comparazione chi è più forte la poesia o la pittura la pittura ok ma perché perché grazie agli scrittori che ternano il nome dei pittori e quindi ecco che implicitamente se questo è uno stilema di genere riferito agli autori antichi il cui nome sopravvive ancora oggi grazie agli scrittori ecco che l'inserimento del canone moderno qualifica ariosto rispetto agli autori a lui contemporanei e quei che fura nostri dio sonora leonardo andrea mantegna giambellino duodossi e quel cappara sculpe colora michel più che mortal angel divino bastiano raffaele tizian conora non men cador che quei venezio orbino e gli altri di cui tal opera si vede qual della prisca età si legge e crede questi che noi vediamo pittori e quelli che già mille e mille anni in pregio furo le cose che sono state coi pennelli fattano altri sull'asse altri sul muro e qui è anche interessante notare la precisione stilistica con cui ariosto distingue la pittura su tavola dalla fresco dalla fresco non però udiste antichi nennovelli vedeste non per udiste antiche nennovelli vedeste mai dipingere il futuro eppur si sono storie anche trovate che sono dipinte innanzi che siano state ma di saperlo far non si dia avanto pittore antico né pittore moderno questa è una qualità che cede qualunque capacità qualunque virtuosismo gli artisti antichi o gli artisti moderni possano avere nessuno di loro può raggiungere questa qualità che è in mano evidentemente allo scrittore e ceda pur quest'arte al solo incanto del quale triemano gli spiriti dell'inferno la sala che io dicea nell'altro canto Merlin col libro o fosse l'aguaverno o fosse sacro alle norsine grotte fece far dai demoni in una notte e quasi c'è qui questo dettaglio temporale che sottolinea come anche se per magia c'è una durata temporale nella realizzazione di un'opera d'arte bene la rocca di tristano è quest'opera meravigliosa che supera e cede qualunque opera d'arte antica e moderna perché eccede le qualità proprie dell'arte e l'abbiamo la descrizione l'abbiamo nel trentatresimo canto e vediamo quindi nell'illustrazione a tutta pagina del sulla destra vediamo qui Bradamante il signore della rocca di cristano il vassallo che con precisione viene e illumina tutte le rappresentazioni vediamo le illustrazioni gli affreschi delle guerre d'Italia e vediamo anche che però le guerre d'Italia rappresentate a fresco si confondono quasi con le guerre che ci sono intorno di nuovo la rappresentazione del salto del balzo tra la storia e la realtà c'è non ve l'ho messa l'illustrazione dell'edizione dei Franceschi più tarda che rappresenta con ancora più qualità e sensibilità questo dettaglio mostra la gli affreschi in una galleria avvolta che termina in un fondale aperto e sul fondale nello spazio aperto dall'arco della galleria ecco che ci sono di nuovo i duelli e le battaglie come a dire non c'è soluzione di continuità quello che si vede è là e quello che è là è qui sono differenti perché appunto uno è il racconto e uno è la storia però qual è il dettaglio cruciale che Bradamante arriva alla rocca di Tristano nel canto trentaduesimo dove si dice che iniziano stanno per assistere a questa esposizione dei quadri e ecco che quindi nel canto trentaduesimo sullo sfondo si rappresenta esattamente il l'arrivo di Bradamante alla rocca di Tristano nella rocca nell'oggiato della rocca ci sono dei piccoli segni che possono alludere agli affreschi ma ancora non lo possiamo sapere e soprattutto non lo possiamo capire e ecco che quindi la narrazione si narca da un canto all'altro di nuovo veramente la rappresentazione del paratesto iconografico simula rappresenta anima lo stile ariostesco c'è un dettaglio ancora di più ancora più interessante nella rocca è lo stesso signore della rocca che quasi duplicando triplicando i personaggi dice uno l'autore ariosto ma ritornando dove aspettarmi denno quei che la sala hanno a vedere dipinta voce autoriale che si riallaccia all'evento precedente ma lo stesso signore della rocca così dicendo a se stesso riprende e quel che aveva a dir prima abbia lasciato e torna indietro lui stesso lo stesso signore della rocca si riallaccia perché aveva lasciato sospeso il suo discorso ecco che questo discorso sospeso si riempie di qualcosa si riempie di un significato e si riempie di un significante che è l'immagine che apre una parentesi che dilata il racconto credo che per chiudere vorrei soltanto darvi due altri piccoli stimoli per capire come al di là poi di questo processo così stretto tra testo e illustrazione l'illustrazione poi abbia iniziato a vivere a generare vita al di fuori del testo e sia diventata una fonte di ispirazione che ha condizionato veramente l'immaginario questa è l'edizione Giolito è il viaggio di Astolfo sulla luna e questo è l'affresco di Palazzo Besta a Teglio che è assolutamente ispirato tratto copiato copiato forse più ancora che ispirato all'illustrazione giolitina Giolito fornisce un modello questo modello piace ed ecco che quello che si vede nel libro inizia a diffondersi negli affreschi come appunto gli affreschi della Rocca di Trestano comincia a diffondersi sulle maioliche sui piatti e quindi a popolare una vita quotidiana comune e appunto questi sono altri esempi interessanti di come la la suggestione poi anche classica si riplasmi e assuma nuovo significante con il modello ariostesco qui c'è una lotta di Ercole e Anteo di Girolamo da Cremona del Metà Quattrocento e vedete poi come lo stesso modello la forma patetica viene recuperata nell'edizione giolittina per rappresentare la forza della furia di Orlando e ecco che poi come viene rappresentata da Battista Dozzi nel duello di Rodomonte Orlando 1530-40 oppure anche poi come i nuclei narrativi fondamentali cruciali del furioso iniziano a vivere di vita propria e ecco che ci sono dei grandi motivi dei grandi elementi dei grandi nuclei narrativi che iniziano ad avere poi autonomamente una vita figurativa propria così Billy Vert Angelica che si cela Ruggero Manetti in uno splendido io trovo veramente meraviglioso Ruggero e la corte di Alcina che rappresenta la scena del canto settimo in cui i personaggi e la corte di Alcina giocano al gioco dei segreti e quindi si vede Ruggero che parla all'orecchio di Alcina il gioco dei segreti è un gioco di corte codificato equivalente al nostro telefono senza fili si dicevano dei segreti all'orecchio di una persona e si vedeva come mutava il messaggio era anche l'occasione per poter dire privatamente messaggi erotici senza in pubblico senza quindi nessun rischio con la massima tranquillità possibile oppure uno dei temi di sicuro più affrontati nella tradizione figurativa in cui si sommano veramente moltissimi elementi anche classici tra i quali in alcune rappresentazioni anche evidentemente delle pietà cristiane nelle scene in cui Angelica raccoglie Medoro sono plasmati evidentemente sul modello della pietà l'amore tra Angelica e Medoro e la scena cruciale le scene cruciali in cui scrivono i loro nomi sui tronchi degli alberi come a dire che nasce si arriva alla pittura ma il segno grafico che ha dato origine Orlando impazzisce quando vede quei nomi e quei nodi scritti in arabo che lui sapeva leggere perfettamente quello è il primo colpo vedere scritto quell'amore dalle immagini si rimanda sorrettiziamente al testo verbale grazie mille facciamo una pausetta perfetto ok allora rieccoci spero che appunto la sostituzione così all'ultimo momento non sia stata troppo deludente se avete domande curiosità qualunque cosa prego ah il microfono faccio faccio tutto da solo no Lina dai buonasera io la ringrazio anche perché mi piacerebbe anche a me improvvisare le lezioni con questa capacità qui a me sono convinto mi succedesse a me di dove fa una lezione in italiano in una classe non mi riuscirebbe io avrei una curiosità molto cioè lei l'ha accennato in questo nostro percorso abbiamo visto come la letteratura ispira il mondo delle arti figurative io volevo chiedere a entrambi se avete esempi molto precisi del processo contrario cioè di opere della letteratura che si ispirano alle arti figurative perché mi interessava capire anche quest'altro tipo di risvolto e chiudo ringraziandovi ancora perché ci avete garantito una lezione nonostante l'imprevisto quindi un testo un'opera d'arte che ispira la letteratura allora una delle più note più tradizionali è probabilmente la calunnia di Apelle che poi ha ispirato le descrizioni della calunnia che abbiamo nella tradizione un'altra evento notevole che è studiato e che sostanzialmente inaugura l'interpretazione stringente dell'ekfrasi in un determinato senso è l'urna greca che ispira l'ode sull'urna greca di Kitz è un'opera cruciale per interpretare proprio in senso specifico il fenomeno ekfrastico però diciamo che abbiamo poi vari casi che diciamo mescolano possono mescolare combinano l'ispirazione tra da opere d'arte esistenti e ecfrasi fittizie ma abbiamo cose come la galleria di Marino mi viene in mente quindi una raccolta di testi poetici che sono ispirati a una serie di opere d'arte e lì poi è interessante anche vedere come poi Marino in realtà a sua volta condiziona l'opera d'arte ma la galleria è sostanzialmente una descrizione la raccolta di descrizioni poetiche di opere d'arte ma se uno pensa al genere della galleria allora può far riferimento anche al modello più antico interpretando opera d'arte in senso molto vasto perché poi anche quello è il problema e allora la matrice proprio in storia dei generi letterari sono gli epigrammi e crastici della dell'antologia palatina in cui ci sono e che intendiamoci sono delle cose estremamente interessanti e che nella tradizione tardo quattrocentesca cinquecentesca secentesca poi producono anche degli oggetti estremamente interessanti ovvero partiamo dal modello esiste un'opera d'arte l'epigramma ecfrastico lo descrive ok ma abbiamo anche la possibilità che l'epigramma faccia parlare l'opera d'arte ovvero l'epigramma sia parte costitutiva di un'opera d'arte che mette insieme i due codici e poi nell'antologia viene riportata la parte verbale questa cosa ha un successo particolare in una serie di oggetti che poi sono tra gli oggetti su cui io lavoro in particolar modo che sono gli emblemi ovvero la tradizione emblematica cinque seicentesca alciati in primis risente profondamente alciati che insieme a Thomas Moore Erasmo traduce l'antologia greca quindi era una cosa conosciuta in cui abbiamo quindi le descrizioni di opere d'arte sculture pitture oggetti funerari di cui che sopravvivono soltanto nella descrizione abbiamo gli emblemi che si ispirano a questi oggetti oppure semplicemente traducono l'epigramma greco e poi abbiamo nella tradizione cinquecentesca esattamente come nel caso degli editori che intervengono e offrono un paratesto iconico figurativo per il furioso abbiamo degli editori che accompagnano questi emblemi poetici di immagini quindi abbiamo un'immagine di partenza la trascrizione poetica e crastica dell'antologia abbiamo la traduzione emblematica con alciati moro erasmo semplice traduzione con moro erasmo traduzione emblematica con alciati e poi abbiamo un'illustrazione che rappresenta il testo descritto sono oggetti estremamente interessanti la galleria di marino si inserisce all'interno di raccolte come quelle dell'antologia che vogliono raccontare dare voce alle immagini mute e quindi c'è una rappresentazione in absenza dell'immagine quasi una metafora il testo quindi diventa una metafora che però è in realtà la descrizione dell'immagine di partenza che dà voce a quell'immagine questo nella letteratura secentesca è quello che l'esempio diciamo più clamoroso altri ci sono forse però non ne sono espertissimo anche i marmi di doni che si chiama il ritratto dove fra l'altro rappresenta se stessa davanti a uno dei famosi ritratti di Elisabetta la regina del 600 e dice come questo l'ha ispirata poi a scrivere un romanzo quindi diciamo il ritratto è uno dei generi più interessanti da questo punto di vista però le cose in genere sono più complicate non è semplicemente che ci sia uno scrittore che riproduce in qualche modo un'opera d'altro ci sono dei rapporti molto complicati molto belli ma complessi per affrontare ecco in modo semplice la questione quello che farei è prendere magari l'Od Negriushanan oppure prendere dei testi della Galleria Marignana ecco se dovessi proprio dire oppure si può arrivare alla O Conte di Lessing però lì siamo già più avanti e anche con un livello di teorizzazione addirittura l'O Conte di Lessing è una riflessione ecfrastica a proposito dell'ecfrasi quindi c'è un livello di metadefinizione complicato ecco però è un testo estremamente interessante c'è un'edizione del saggiatore se non sbaglio curata da Michele Cometa che è fatta molto bene nulla buona buona serata a lei qualunque curiosità c'è bisogno Ariosto per fortuna sto vedendo anche con quest'altra cosa con Castelnuovo per fortuna è ancora ben studiato e si presta molto bene insomma in genere piace per fortuna per fortuna piace e poi ha il grandissimo vantaggio di offrire momenti grandiosi come Stolfo sulla Luna o La Pazzia di Orlando che sono oggettivamente belli e affascinanti anche per i ragazzi al di là dei dettagli più più complessi ecco però secondo me sul avere magari un'edizione Valgrisi potrebbe essere che si trova tranquillamente scaricabile online io ho sempre trovato che potrebbe essere simpatica per provocare i ragazzi ovvero che ci vedete voi com'è che funziona questa narrazione i ragazzi e le ragazze com'è che funziona questa narrazione perché ci mette tutto dentro e com'è che sta il rapporto con quello che segue se voi vi trovaste davanti a questa cosa come reagireste provate a interpretare andate è secondo me uno uno stimolo una provocazione estremamente affascinante anche perché poi ci sono dei passaggi molto belli come quelli in cui ci sono le rappresentazioni cartografiche quindi si prestano molto bene a una grande molteplicità di suggestioni ecco per questo io sono un grandissimo fautore di di valgrisi prego ciao mariella di brigida prego ah si prego se vuole parlare vada buonasera la ringrazio per questa mi sente mi sente io non sento nulla mi sente se può scrivere per favore perché io non la non la sento se può scrivermi le rispondo volentieri se no devo venire agli auricolari vengo lì mi dai le cuffie ah ok perfetto già che oggi è andato tutto io non ne indagherei ah e cosa mi mi sente per non canoniche mi sente credo sia una domanda legittima ma non capisco se non canoniche rispetto al discorso giolitino ovvero inserire il furioso all'interno di un canone o non canoniche immagino completamente fantasy volendo e poi mi permetta dell'Ariosto in quanto Ludovico Ariosto o dell'Ariosto in quanto furioso perché c'è tutto un capitolo peraltro anche questo estremamente affascinante della del ritratto di Ariosto quindi dell'immagine di Ariosto ecco però provo a una rappresentazione esoterica allora il l'esoterismo è questione complessa e articolata di sicuro nel 500 la produzione 5600 la produzione esoterica passa tantissimo per immagini penso penso a la mona sieroglifica di John D in cui i contenuti esoterici sono rappresentati attraverso geroglifichi ora non voglio entrare e aprire un'altra parentesi sconfinata che è quella della moda dei geroglifici a partire dalla dalla seconda metà del 400 ma sono dei contenuti che si intessano profondamente poi con anche con certi modelli di rappresentazione esoterica sostanzialmente magico-alchemica in Ariosto non mi pare ci siano stati tentativi di traduzione o rappresentazione esoterica come la Magalcena che però è Circe o Melissa o Alcina oppure ci sono le illustrazioni in cui si vedono si vede per esempio l'evocazione di Melissa nella grotta di Merlino con l'evocazione degli spiriti però ecco e l'unico dettaglio esoterico è la rappresentazione di anche abbastanza corretto volendo quando Bradamante cade nella grotta di Merlino poi c'è lo spirito di Merlino che parla e Melissa che poi guida Bradamante nella teoria magica degli spiriti che rappresentano la dinastia estense e Bradamante e Melissa è rappresentata in modo estremamente corretto come strega con i capelli sciolti e all'interno di un pentacolo ovvero si vede per terra il disegno di un di un cerchio con il pentagramma dentro e Ariosto dice che serviva per proteggere Bradamante dal possibile attacco degli spiriti e alle volte le illustrazioni fanno un po' di mettono o Melissa o Bradamante all'interno del del pentacolo però a parte questo ecco dettagli esoterici in Ariosto o rappresentazioni esoteriche del curioso appunto al di là della maga di Dossodossi non ci sono e appunto anche quella in realtà è problematica perché potrebbe essere Circe potrebbe essere Alcina potrebbe essere Melissa i ritratti di Ariosto invece è una vicenda estremamente complessa perché Ariosto diciamo che compare nelle incisioni del furioso fin dall'edizione giolitina e c'è il ritratto che lo rappresenta rappresenta il suo profilo c'è un gentiluomo di Tiziano che se non sbaglio è alla National Gallery o alla National Gallery conservato alla National Gallery che è stato per lungo tempo considerato il ritratto di Ariosto di Tiziano considerate proprio le affermazioni vasariane sulla stretta intimità tra Ariosto e Tiziano stesso in realtà ora si preferisce definirlo semplicemente ritratto di gentiluomo senza nessuna definizione precisa perché molto probabilmente non è il ritratto di Ariosto che sicuramente è tratto dal dal da un'immagine dal vero diciamo è quello che compare nell'edizione e questo segue una un gusto una moda una regola precisa volendo che ha anche in questo caso una tradizione antica è Plinio nel libri sulla storia delle arti che racconta come nelle biblioteche venissero messi in corrispondenza di determinati autori i busti le figi le immagini di quegli autori e a un certo punto poi quando comincia a diffondersi il libro a stampa anche i libri iniziano a mostrare i ritratti degli autori quindi una presentazione dell'immagine reale dell'autore quasi che si realizzasse un binomio qui faccio un salto di qualche secolo c'è un altro autore che io ho studiato a lungo Emanuele Tesauro che è uno dei più grandi teorici del barocco italiano che scrive a Cassiano Dal Pozzo che era suo amico e corrispondente parlando del del fatto che gli avesse inviato una copia del suo libro e un suo ritratto ecco e Cassiano Dal Pozzo unisce il libro e il ritratto e così come ci potremmo immaginare che funzionino il libro e il ritratto nello stesso oggetto libro come lui dice a ricomporre una unità è il rapporto che esiste tra i ritratti doppi che rappresentano l'immagine esteriore e l'immagine interiore le medaglie e i loro rovesci in cui c'è il ritratto e il profilo e un'altra immagine che rappresenta non un contenuto oggettivo e visibile ma rappresenta in genere nelle medaglie o nei ritratti doppi o nelle coperte dei quadri si rappresentano dei dettagli che intendono alludere alle volte in modo metaforico allegorico a un altro tipo di ritratto il ritratto interiore e se noi pensiamo allora questo sistema di combinazioni ritratto esteriore di Ariosto ritratto interiore che è poi l'opera quello che l'autore ha prodotto ecco che si viene a creare una unità ma il dato interessante nel caso specifico di Ariosto è che da autore molto appassionato di autorappresentazione self-fashioning Ariosto e qui questo è un argomento che su cui ha scritto proprio qui molto bene la professoressa Bolzoni Ariosto fornisce di sé dei delle presentazioni dei ritratti attraverso le imprese e quindi presenta se stesso attraverso dei modi alternativi quindi la rappresentazione del sé si unisce anche alla rappresentazione del contenuto del sé voglio aggiungere qualcosa chiuderemo anche siamo arrivati alle 18 benissimo allora grazie a tutti e tutti e tutte e vi ricordo per la prossima settimana tutto online grazie e buona serata arrivederci arrivederci spento in a a Grazie a tutti